Messi si gira, Messi si gira, la palla è per Fabregas da dentro e poi c'è il gol, ha segnato il Barcellona, ha segnato Dani Alves al trentaseiesimo Falcio d'angolo battuto, attenzione Falcao! Radamel Falcao per l'uno a uno Puyol, Abidal, Buschez per battere di testa e c'è il gol, ha segnato il Barcellona, l'ottantunesimo, la punizione era di prima, l'Atletico Madrid ha guardato lo sviluppo dell'azione